Chiamo Luca Giordano e ho 22 anni. Ho conseguito la laurea triennale all'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Il dipartimento che mi ha ospitato è quello di studi letterari, linguistici e comparati. Il mio progetto consiste nella creazione innanzitutto di un dataset contenente notizie in lingua italiana in ambito medico-sanitario e il fine ultimo è lo sviluppo di un sistema di classificazione automatica sulla base di algoritmi e machine learning che imparino dal dataset creato per valutare la probabilità con cui una notizia mai vista prima è vera o falsa. Il consortium GAR è fondamentale in questo progetto perché funge da trampolino di lancio per la condivisione di conoscenze e risorse che saranno prodotte nell'ambito del progetto Tradisan e ad esempio per potermi interfacciare con la rete GAR si interfaccia quotidianamente.